... Mandoi a tutti, ben ritrovati. Quello che vi mostro oggi è un gioco che si realizza come un oggetto molto semplice che viene utilizzato da tantissime persone nel settore del gioco. ora lo sto facendo apposta non è che ecco procedendo in questo modo voi state già ottenendo un grande risultato perché i bambini rideranno i bambini fino a 8-10 anni dai 3-4 anni in su apprezzano tantissimo queste gag apprezzeranno molto di più queste gag che avere col palloncino magari in regalo una bella scultura e diventerà un oggetto molto prezioso anche un palloncino rotto che però gli ricorderà tutta una serie di gag che gli hanno fatto ridere rispetto magari a una bella giraffa un bel coniglio o una bella spada si può prendere il palloncino ora faccio una... scherzavo ecco ora lo faccio anche perché è una cosa che utilizzo da anni quindi so fare bene ecco certo fa un caldo aspetta riprovo ok il... se mi concede... si fa un nodo e si prova si prova a fare un bel nodo in questo modo qui e la mia idea è realizzare una scultura splendida una scultura multiple che si fa con diversi palloncini per esempio si potrebbe fare un gabbiano questi sono quegli uccelletti che volano sopra il cielo e il... dove c'è il mare no? si prova a prendere così si prova a... a dividere e... il gabbiano è volato via grazie